salve a tutti allenatori e allenatrici di pokemon benvenuti in un altro video di pokemon unite abbassonete il volume non so allora ho appena guardato un video su venusaur sul fatto che petalodanza diminuisce il cooldown dell'altra morsa e di solito si fa imparare giga assorbimento che assorbe in un'area la vita dei pokemon avversari e in più aumenta la resistenza agli attacchi quindi è una roba assurda e fa tantissimo danno e per quello che vedo così tanti venusaur in tutte le partite quindi lo voglio provare anch'io e non so se provare a fare una competitiva una standard proviamo una competitiva anche se sono abbastanza sicuro che me lo fregano subito sono abbastanza sicuro ok vediamo venusaur più o meno ce l'ho qui ok bene pozione pozione va bene così e preparativi andiamo a top ci manca un tank ma più o meno venusaur fa già da tank a parte che non so cosa fa l'ulti vabbè lo impareremo giocando ah non vi ho detto che è la prima volta che gioco perusaur direttamente in competitivo spero di non trollare troppo infatti anche l'avversario è un delusaur speriamo che vada tutto bene bene speriamo che vada tutto bene bene per chi non lo sapesse venusaur è uno dei miei starter preferiti dai partiamo e si trolla cioè non voglio trollare però è la prima volta che ci gioco non so come andrà a finire foglie lava mi ispira di più vabbè fa niente si farma insieme sta lassittando tutto lui che va bene lo stesso nella ragazza non è che cambia tanto io frego sempre quel core fish lì perché sta un po' laggando c'è quel pikachu lì no picchiato sul nulla devo curarmi perché sono schiatto adesso andiamo dai muori pikachu uh si 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 sta andando benissimo dai 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 siamo su di in livello sei giga assorbimento ragazzi la mossa giusta per carriare il gioco mamma mia in botta stanno schiattando male però stanno schiattando male in botta no 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 sto sto schiattando niente sto facendo schifo no 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 andiamo su veloce a veloce a veloce però è bello veloce sono abituato con un snorlax che è lento lento sciottati wow tanta roba ho solo 5 punti ma fa niente andiamo a farlo questi 5 punti da non è che andiamo a farm farm pikachu allora bot al massimo ci andiamo quando c'è cosa mamma mia che danni che danni che danni che danni che danni scappo almeno una bacca prendo pietna rudanza e si vola si sono un botto di danni ragazzi no 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 proprio mancava mezzo secondo quel giga assorbimento lì che partiva e adesso andiamo botte ragazzi e si gode non so come andrà a finire ragazzi non nemisce il cooldown contro i popolo salvatici mi sa però intanto ce lo stiamo facendo alla grande che danni che fa mamma mia così al volo subito mi sono evoluto e mi sono pure incastrato adesso sembra molto più lento ma sarà solo un'impressione ragazzi no solo per aumentare la velocità e fare gol qui perché sennò chissà quando faremo gol gol perfetto farmiamo il coso avversario così dai che parte bene cosa fa questo massa unite non sono riuscito neanche ad attivarlo però dove andiamo sopra dai che serve aiuto si sta arrivando ah proprio così è morto è morto male è veramente devastante sto pokémon però e ciao sono morto sto schiattando oh che fortuna ragazzi non avete idea cosa ci fa quel quel maledetto gengar lì che camperava nel cespuglio è assurdo mi hanno camperato malissimo però siamo boh non so se siamo il problema di questo gioco che a volte non capisco chi è in vantaggio oddio c'è un po' troppa gente mi sa no 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 torna indietro aspetta un attimo prima di fare qualcosa allora prima lasciamoli che si avvicinino loro giga assorbimento dai giga assorbimento oh allora io sto lontano finchè non parte il giga assorbimento ok si mette male ragazzi speriamo di no dai capo perfetto no dobbiamo segnare gol chissà frega dai ragazzi comunque c'è un po' di lag allora farmiamo un po' il coso avversario così ehi no 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 non va affatto bene così però ok l'ho proprio distrutto e c'è un po' di lag ragazzi lag purtroppo no 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 mi hanno shottato mi hanno shottato male non dovevo stare lì da solo quindi in teamfight sto venusauro è veramente terrificante e il drago è importantissimo se ci prendono il drago ribaltano quindi dove esserci il drago maledizione non ho la mosso unite e lì è un problema allora allora stanno teamfight intanto gli faccio si 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 lo facciamo lo facciamo lo facciamo lo facciamo fatto e adesso basta si va a fare punto si va a fare punto e via beh che shottiamolo prima shottiamolo shottiamolo shotta shotta dai 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 si si abbiamo vinto 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 basta è finita è finito basta non poteva più ribaltare la situazione e venusaur è rottissimo ragazzi è la prima volta che lo uso non credo di essere andato sì sono andato bene invece e niente ragazzi ci vediamo allora in un prossimo video su pokemon unite e niente ciao